Crociere da sogno è lieta di proporvi un giro nel Mediterraneo di 10 giorni e benvenuti a bordo! Potrà godere di 240 ore di buon riposo in scenari da sogno, nelle più belle località del Mediterraneo, Grecia, Turchia, Italia. Sulle nostre navi troverete un bar per ritrovarsi, accoglienti camere, piscine dove rinfrescarsi e divertirsi per un gradevole soggiorno con la vostra famiglia. Chiami lo 041 24 63 25 per informazioni e prenotazioni. Se vuole giocare con l'amore, con Crociere da sogno, la vostra vacanza diventa realtà.